Cada il nonno, eh! Mercio di Vornese produce elettricità dalle bestemme, Toscana raggiunge indipendenza energetica. Ma quello è un castello? Delle fatine? Che è quello? Quanti giocattoli che non giocano? Non lo so. Quello è un castello? Quello è un castello? No, quello là, si, è il castello di Bari. Io ti sto chiedendo da ieri che volevo vedere di giocare lì, ma non mi sentivi tu. Eh, non mi sentivi. Come se non mi sentivi. In realtà, quella che non sente sei te quando ti chiede una cosa. Non è vero. E allora, i regali di Vavo Natale, questi dell'infermiera, della dottoressa, che l'avevamo preso? Non ci ha fatto vedere niente, lei. Ma no! Allora, cosa è successo con il treno? L'hai fatto fuori due ruote. Ti sbagliò. Ma l'hai sistemato o non si è rotto proprio? E ora lo dobbiamo vedere. Mantieni tu. Eh, ti sei. Ora dobbiamo vedere. Devo passare. E porta la... fammi vedere la... il palazzo quello, il castello, che cosa ha? Che è della vela della bestia? Tu fai lui! Preparo per giocare con la casa dei bambi e con Giovanni. Capito? Quello che... Ma cosa c'è delle bambi? Per tutte le piccole le sei il papà. Quindi? Cosa stai facendo? 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 E prima sono queste. Questa si chiama bionda. Si chiama marronina. E questa si chiama capelli morbidi. Sì. Ma dentro di quel palazzo che c'è? Tutto quello che vorrei sistemare. Oh Dio, non fate la testa maravigliare che poi dobbiamo studiare. Sì. 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 mi sa che devi metterti te da solo con il telefono del papà a registrarti perché qua stiamo andando anche se mi finisce la batteria e anche la memoria ma che c'è un ascensore l'italiano supera il francese è diventata la quarta lingua più studiata al mondo non resta che farla studiare anche in Italia il sole non è sa bene il sole non è sa bene le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma che non si uccidono carnevale oggi è domenica di carnevale sono uscito avevo portato le birre ti apro la pasta la mudicca purata la mudicca dovrebbe essere la mudica di pane olio acciuga pan grattato il ciugno e pan grattato l'olio acqua sale spaghetti olio olio peperoncino vabbè adesso non metto metto i spaghetti acqua di cottura l'olio continuo a cuocere in padella no vabbè nel pan grattato con l'acciuga che ha fatto cuoce lo metto come il condimento sulla pasta senza carriata l'olio senza carriata Alle maldine a bordo di un yacht privato, tutto per noi. Grazie per la visione.